Che vuoi? Uomini e donne, puntata odierna, cadono i petali rossi su Dal Corso e Teresa Nellappuntamento di oggi 11 aprile dedicato al trono classico di Uomini e Donne, Andrea e Teresa confermeranno il loro amore. È stato un percorso lungo e complicato ma finalmente troverà il suo lieto fine nella puntata odierna dedicata al trono classico di Uomini e Donne. Oggi 11 aprile, infatti, Teresa Langella e Andrea Dal Corso saranno ospiti di Maria De Filippi per fare il punto sulla loro situazione sentimentale dopo il confronto, scontro avvenuto qualche settimana fa nello studio del dating show. In tale occasione, non era avvenuto il chiarimento sperato da Andrea che aveva raggiunto l'ex tronista a Napoli per chiederle scusa per il no rifilato nella puntata della scelta. Ma dopo tale incontro, lui era entrato in crisi e aveva dichiarato davanti alle telecamere di non riuscire ad essere se stesso all'interno del contesto televisivo. Aveva quindi deciso di tornare a casa di Teresa dove finalmente è sbocciato l'amore, confermato dal romantico ballo al centro dello studio di Uomini e Donne. . Uomini e Donne anticipazioni, la conferma di Teresa e Andrea. . Il portale Vitti TV ha diffuso le prime anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata in onda oggi 11 aprile e registrata lo scorso 25 marzo. . Come riporta il video pubblicato dal sito web e il resoconto del vicolo delle news, il primo ad entrare in studio sarà Andrea Dal Corso che chiarirà quanto accaduto a Napoli dove aveva potuto conoscere Teresa nella sua quotidianità. . Aveva trovato una persona diversa e molto gentile con lui e la sua famiglia, proprio come lui desiderava. . . In studio, Gianni Sperti ammetterà di faticare a credere nell'ex corteggiatore Veneto, dopo il no della non scelta non ho più creduto in lui. . Inevitabile la risposta di Andrea, nella mia vita ho sempre cercato la semplicità ed il fuoco, sono le due cose che ho trovato in lei e che mi ha fatto provare proprio in questi giorni. . . A questo punto, sorridente come non mai, entrerà la Langella che confermerà di stare insieme ad Al Corso e confesserà, sono tanto, tanto felice Maria. . 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 Grazie a tutti.